...del ventunesimo corso esempio. Lo giurate a voi? Lo giuro! Lo giuro. Lo hanno gridato tutti insieme all'unisono, quasi fossero un corpo unico, i 109 allievi del ventunesimo corso esempio della scuola sotto ufficiali dell'esercito di Viterbo. Lo hanno gridato di fronte al generale Salvatore Farina, capo di stato maggiore dell'esercito, di fronte alle massime autorità militari, civili e religiose, di fronte alle famiglie, ai parenti, agli amici, a corsi per vivere e per immortalare un momento, forse il momento più importante nella carriera del militare. Ed è proprio a quelle famiglie che il generale Farina ha voluto rivolgere il suo saluto e il suo ringraziamento per l'apporto di serenità e di equilibrio che danno agli allievi. E poi, rivolgendosi agli allievi, ha ricordato l'importanza dei valori contenuti in questo momento così solenne, nel momento del giuramento, valori che essi dovranno portare sempre con sé in ogni momento della vita umana e professionale.